Hey, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti faccio vedere il gameplay di Food Chain Magnate. Conosciutissimo e apprezzatissimo gioco della Splotter, localizzato in italiano dalla MS Edizioni, che ringrazio per avermi dato questa copia, di modo che ti ho potuto fare un videotutorial dopo che me l'hai chiesto non so quante volte, e puoi andare a recuperarlo cliccando in alto o in descrizione. Ora invece ci vediamo un gameplay, perché dopo aver letto il regolamento o magari visto il tutorial, ti sarà un po' più semplice apprendere meglio le regole, vedendole effettivamente in azione. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così aiuti il canale a crescere. Ed eccoci qui pronti a vedere qualche turno a Food Chain Magnate. Augurami buona fortuna. Gioco che metterebbe paura a chiunque, dovendo fare un tutorial e gestendo soprattutto tre giocatori diversi. Quindi insomma, io e le mie altre personalità saremo molto indaffarati in questo video. Spero vivamente di non fare errori, ma questo è un gioco veramente profondo, non complesso a livello di regole, e gestire davvero tra i giocatori è tosta. Quindi se farò degli errori, sono sicuro che me li farai notare, e metterò comunque delle note nei commenti, sotto il video di YouTube. Quindi, senza perdere tempo, vediamo un po' qual è il punto della situazione. Perché non siamo proprio all'inizio della partita, come puoi vedere. Innanzitutto abbiamo questo ristorante, che è il Go Duck Diner. Poi abbiamo, spostandoci di qua, il... non si legge... Blues Bar. Non me lo ricordo come si chiama. E il Santa Maria Pizza. Vedi? Già ci sono svariate carte nei mazzi dei giocatori, alcuni hanno preso già degli obiettivi. Tra l'altro io sto utilizzando questo meraviglioso dispenser che mi sono fatto per le carte, per occupare ovviamente il minimo spazio possibile, e anche questi che sono praticamente delle schede di riferimento plastificate, dove vedi, ci scrivo sopra, quelli che sono stati ottenuti dal giocatore, in particolare con il cerchietto, e quelle che non sono più ottenibili con la IGSE. Sto utilizzando le chip, perché le monete in carta, i soldi in carta non li sopporto. E senza perdere ulteriore tempo, andiamo subito a procedere con questo round. La prima fase è quella della riorganizzazione, ovvero dove i giocatori segretamente scelgono le carte che vogliono utilizzare durante questo round, e questo è l'unico momento in cui i giocatori non possono vedere i mazzi degli altri. A questo punto i giocatori, dopo che hanno formato due pile di carte, ok, quella che giocheranno e quella che non giocheranno, le organizzano nell'organigramma a forma di piramide, e poi si passa alla fase priorità negli affari in cui si decide l'ordine di turno. Una volta scelte le carte da giocare, si devono organizzare in un organigramma, come questo, una sorta di piramide, in modo poi da delineare quello che i giocatori intendono fare durante il round. E questa è quella del giocatore azzurro. Quindi nella fase priorità negli affari, si vede chi ha più spazi liberi nel proprio organigramma, per poi definire il successivo ordine di turno, ma come puoi vedere hanno tutti quanti gli spazi occupati dai vari dipendenti. Essendo quindi in parità, fa fede il precedente ordine di turno, e in questo modo si sceglie. Quindi il primo a scegliere è il giocatore rosa, che decide di giocare per primo. Tocca al giocatore verde. Il giocatore verde, anche lui decide di giocare per secondo come stava prima, e di conseguenza il giocatore azzurro sarà di nuovo terzo. A questo punto c'è la terza fase al lavoro, che si compone di tutte queste sottofasi che un giocatore deve svolgere completamente prima di poter passare al giocatore successivo. E il primo sarà il giocatore rosa, quindi vediamo cosa andrà a fare. Queste fasi tra l'altro si svolgono in sequenza, e la prima è quella di assumere personale, e eventualmente formarlo di conseguenza, e poi eventualmente formare se si può ancora farlo. Sono queste le prime due fasi che spesso si fanno insieme. Quindi lui tecnicamente può assumere una persona. Il personale che si può assumere è quello con la freccettina nera qui nell'angolo in alto a sinistra, e lui decide di assumere un aiuto cuoco, che lo aiuterà a produrre hamburger o pizza nel round successivo. E questo viene messo in spiaggia, cioè insieme a quelle carte che non sono state utilizzate in questo round. Non può assumere più nessuno, quindi deve formare, se vuole, ovviamente. E utilizzerà il formatore, che gli permette di formare uno o due dipendenti, oppure formare lo stesso di due livelli. E lui vuole formare, eccolo qui, l'assistente di direzione. Ora, come puoi vedere in questa meravigliosa scheda di riferimento, se lui va a formare l'assistente di direzione di due livelli, innanzitutto diventa prima direttore operativo, e poi potrebbe diventare uno di questi, qui vedi ce ne sono veramente tanti, ma quello che gli interessa è il responsabile del personale, che gli permetterà di assumere fino a due persone, oppure di avere degli sconti quando deve pagare gli stipendi. Quindi questo torna a posto, e noi ci prendiamo, no, eccolo qua, il responsabile del personale, che finisce in spiaggia. A questo punto può, se vuole, avviare campagne pubblicitarie, e ovviamente vuole. Il responsabile della comunicazione gli permette di mettere una cassetta postale o un cartellone, e decide di mettere la cassetta postale numero 9, e prende ovviamente anche il segnalino relativo. Il suo pubblicitario lo mettiamo al lavoro qui su per indicarlo, e ovviamente gli assegniamo il numero 9. E ora dobbiamo posizionare la cassetta postale. Ora, il responsabile di comunicazione, come puoi vedere dal numero in alto a destra, si può spostare fino a una distanza di 3, partendo dall'ingresso del tuo ristorante, in questo caso del suo ristorante, dove questa tessera è a distanza 0, questa è a distanza 1, distanza 2, distanza 3, ma siccome il giocatore rosa ha il capo aria nel suo organigramma, tutti i suoi ristoranti hanno il drive in attivo, ovvero ogni angolo è un ingresso, quindi anche questo e questo sono un ingresso. Quindi questo improvvisamente diventa distanza 1. Qui quindi sarà distanza 2, ed è dove vuole mettere la sua pubblicità. Questa pubblicità può durare fino a 3 round, e decide infatti di farla durare 3 round, e decide di pubblicizzare la pizza, e ci metterà quindi sopra 3 segnalini pizza. Il giocatore rosa è stato il primo a pubblicizzare una pizza, e quindi ottiene questo obiettivo. Ecco qua. Questo qui è essenzialmente ogni volta che lui vende una pizza, per ogni pizza che vende ottiene 5 dollari in più. La fase successiva è quella di ottenere cibo e bevande, ma nel suo organigramma non c'è nessuno che gli fornisce questi prodotti. Dopodiché possiamo posizionare nuove case e giardini, ma non abbiamo il responsabile sviluppo clienti, e quindi la sottofase 6 della terza fase è posizionare o spostare i ristoranti, grazie al capo area, che ci dice che possiamo posizionare o spostare un ristorante, che apre immediatamente e ha anche il drive in attivo. Prendiamo il ristorante, e il giocatore rosa decide di posizionarlo qui, di modo che ha un ingresso sia su questa che su questa strada, il che, insomma, non sembrerebbe male. Tocca ora al giocatore verde, che ha un sacco di dipendenti. Allora, innanzitutto, può assumere una persona, e decide di assumere un responsabile amministrativo. Questi abbassano il prezzo unitario, come puoi vedere ce n'è anche due qui, quando si vanno a decidere, a decidere, a definire i prezzi delle merci che andiamo a vendere, e questo finisce in spiaggia. Quindi potrebbe formare, ma non ha nessun formatore, non può avviare campagne pubblicitarie, perché non ha pubblicitari nel suo organigramma, ma può ottenere cibo. Ora, questo apprendista grigliatore gli dà tre hamburger, e glieli mettiamo qui. L'aiuto cuoco gli può dare una pizza o un hamburger, e gli diamo una pizza, visto che sono state pubblicizzate delle pizze. Il giocatore verde, siccome ha prodotto una pizza, ottiene l'obiettivo Prima Pizza Prodotta, che gli fa avere un apprendista pizzaiolo. Non può posizionare nuove case e giardini, e non può posizionare o spostare ristoranti. Quindi passiamo al giocatore successivo. E quindi gli prendiamo un apprendista pizzaiolo, e glielo mettiamo in spiaggia. Ora, il giocatore azzurro decide di assumere tre persone, e assumerà un assistente di direzione e due responsabili amministrativi. Non formerà ovviamente nessuno, non avvierà campagne pubblicitarie, ma otterrà del cibo. Sa che purtroppo non potrà venderlo, ma lo prende lo stesso. Poi capirei perché. Quindi può posizionare nuove case e giardini, grazie al responsabile sviluppo clienti. Prende una di queste case, e diciamo che prende questa, e decide di posizionarla qui. Così è influenzata da questa sua pubblicità, ed è a distanza due dal suo ristorante. Hanno quindi svolto tutti quanti la terza fase, e adesso c'è la quarta, ora di cena, in cui i vari clienti si spostano potenzialmente da casa per andare a mangiare. In questo caso, osservando la mappa, ci sono solo loro. E esistono dei ristoranti che forniscono questo prodotto? Sì, sia questo ristorante che questo ristorante. Perché questo ristorante per adesso, come questo, non ha alcun prodotto. Quindi bisogna determinare il prezzo unitario, e applicare tutti gli sconti possibili. Partiamo prima da questo. Il prezzo unitario ha una base di 10, e vengono applicati vari sconti. Ma in questo caso, il giocatore azzurro non ha nessuno sconto. Il giocatore verde, come prezzo unitario, ha partenza 10, meno 2, grazie a questi due responsabili amministrativi. Quindi, 8. E ora, siccome questi ristoranti sono comunque in concorrenza, perché possono fornire tutti e due i prodotti richiesti dagli abitanti di quella casa, bisogna controllare anche le distanze. La distanza di questo ristorante a questa casa è 0, perché ovviamente è sulla stessa tessera, e ovviamente il suo ingresso è collegato con una strada a quella casa. Questo ristorante, invece, è a distanza 1 e 2. Quindi, se andiamo a fare la somma, abbiamo prezzo unitario 10, più distanza 0, totale 10. Prezzo unitario 8, più distanza 2, totale 10. E sono in parità. In caso di parità, si va a vedere chi ha più cameriere al lavoro in questo momento, quindi si devono trovare nell'organigramma. Ma, come puoi vedere, entrambe hanno una cameriera e sono di nuovo a parità. A questo punto, fa fede l'ordine di turno. E chi è più a sinistra è il vincitore, diciamo, di questa serie di spareggi. Per questo ti dicevo che il giocatore azzurro sapeva che comunque non avrebbe potuto vendere il suo hamburger, perché si era comunque già fatto i calcoli. Quindi il giocatore verde è quello a ricevere gli incassi, ovvero il prezzo unitario della sua merce che sta vendendo, più tutti gli eventuali bonus dati da carte obiettivo, ma non ha carte obiettivo che gli danno bonus di questo tipo. Quindi si scarta questo prodotto da qui, perché questi clienti sono stati serviti. Il giocatore verde scarta l'hamburger dalla sua riserva, ovviamente. Il suo prezzo unitario era di 8 e quindi riceve 8 monete. A questo punto quella casa è stata servita e si passa alla successiva con numero più alto, perché si parte ovviamente da quella del numero più basso e si passa oltre. Ovviamente c'era solo quella, quindi non abbiamo dovuto fare questo conto. Fatto ciò, le cameriere fanno ottenere qualche soldino in più. Nel caso del giocatore azzurro, lui ottiene 3 dollari dalla sua cameriera. Eccoli qua. Che sono meglio di un calcio nelle ciliegie. Il giocatore verde ha questo obiettivo, prima cameriera al lavoro, che gli fa ottenere più 2 ogni cameriera al lavoro, quindi prende 5 dollari. Ed eccoli qua. Durante questa fase si può esaurire la banca. Se succede e stai giocando una partita completa, non con, diciamo, le regole un pochino più semplici, vengono scoperte le carte riserva e si aggiungono, ovviamente, altre monete, altri dollari alla riserva e si continua a giocare. Tra l'altro, questi determineranno anche quanti ulteriori spazi in più avrà il tuo CEO, che possono essere 2, 3 o 4, se non ricordo male. Quindi abbiamo la fase 5, giorno di paga, in cui bisogna pagare gli stipendi, sia di quelli che sono al lavoro, dei dipendenti che sono al lavoro, sia di quelli che sono in spiaggia e eventualmente puoi licenziare qualcuno. Se vuoi licenziare un pubblicitario, puoi farlo solo se non lo puoi pagare. E devi prima licenziare tutti gli altri dipendenti che puoi licenziare e poi eventualmente licenziare lui. Vediamo un pochino il giocatore rosa cosa deve pagare. Ora deve pagare 5, 10, 15 e sono coperti da questo obiettivo che riduce di 15 l'importo totale degli stipendi. E qui abbiamo 5, quindi deve pagare solo 5 di stipendi, ma lui non ha un soldo. Decide quindi a malincuore di licenziare il motivatore. Vediamo ora il giocatore verde quanto deve pagare. 5, 10, 15 con questa e quindi abbiamo 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Quasi tutti i suoi soldi. Vediamo quindi il giocatore azzurro che deve pagare 5, 10. Eccole qua. A questo punto si attivano le campagne pubblicitarie in ordine numerico, quindi prima questa. Questa è una cassetta postale e quindi va a influenzare tutte quelle case che si trovano all'interno dell'isolato che attualmente sono una e due. Togliamo innanzitutto una da qui perché ne indica la durata, quindi questa viene qua e questa viene qua. Perfetto. Questa qui invece che tra l'altro è infinita, quindi continua ad andare senza soluzione di continuità, influenza queste due case a cui è adiacente e mettiamo due hamburghilli qui. E a questo punto c'è la fase delle pulizie. Chi non ha il freezer deve scartare tutti i prodotti che ha ma il giocatore verde e anche il giocatore azzurro ce l'hanno e quindi possono conservarne qui sopra fino a 10 così poi da non doverli riprodurre nei round successivi. Come hai potuto vedere il gioco scorre bello liscio anche se in realtà non è un gioco veloce perché prende qualche oretta anche con i giocatori esperti perché le varianti e le variabili sono davvero tante e l'influenza degli altri giocatori può scombinarti i piani se non addirittura cacciarti fuori dalla partita. E questo è tutto io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Se vuoi iscriviti al canale clicca sulla campanellina lascia un bel commento e un like così aiuti il canale a crescere. Io sono Flavio il Meeple con la camicia e ci vediamo la prossima.